Oggi vediamo un servizio alternativo a WinTransfer che permette tra l'altro di inviare fino a 5 gigabyte di dimensione di file contro i due del primo e non richiede registrazione, inserimento mail e verifiche di nessun genere. Inoltre è fornito da una società Estone quindi rientrante nell'Unione Europea e quindi nel GDPR. Vediamo velocemente come funziona il servizio gratuito, c'è anche un servizio a pagamento che ovviamente dà più opzioni, più possibilità, ma in questo momento non ci interessa. Aperto il sito che troverete comunque nella descrizione del video, vediamo come procedere. Qui possiamo aggiungere sia il singolo file che una cartella. Prendo una cartella che sta sul desktop che ovviamente dovrà essere di dimensioni inferiori ai 5 gigabyte. Faccio carica, mi viene dato questo avviso, diciamo carica. Qui ho il tempo in cui posso mantenere valido il link per scaricare la cartella. Quindi un giorno, tre giorni, sette giorni. Se fosse stato meno di 250 megabyte avrei avuto più opzioni, ma in questo caso sono più di 600, quindi vi dico tre giorni, ma posso scegliere. Vedete, qua mi dà la misura 0,66 sui 5. A questo punto, a mio avviso, l'opzione migliore è cliccare qui sulla catenella gialla, diciamo, altrimenti ci sarebbe la possibilità di mandare per email il link. Io invece così creo semplicemente il link. Quindi ci clicco e a questo punto vado su condividi file. Inizia il caricamento. Ovviamente il tempo dipenderà dalle dimensioni del file o della cartella caricate e anche dalla velocità della vostra linea, in particolare quella in upload. Stando avanti, come vedete, la velocità è discreta, stiamo quasi a quasi 100 megabit. Ovviamente con il servizio a pagamento, se avete una linea molto veloce, fareste prima. Ed ecco qua, al termine del caricamento, avremo il link. Questo link è quello da cui poi sarà possibile scaricare la cartella stessa. Possiamo, qui ovviamente c'è un minimo di pubblicità. Io adesso copio il link, me lo sono mandato a me stesso, a questo punto basta cliccare sul link e mi verrà proposto il download. In questo caso ho scarica tutto e mi verrà scaricato una cartella zippata. Al termine dell'operazione, io in questo caso l'ho scaricata sul desktop, ma la potete mettere dove volete. Questa è la cartella zippata, basterà estrarla. Ed ecco qua il contenuto della cartella inviata. Mi ringrazio per l'attenzione.